Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la lezione di algebra di oggi andremo a vedere nella scorsa lezione abbiamo introdotto il tema generale delle espressioni letterali, ovvero di quelle espressioni che contengono sia numeri che lettere. Ecco, oggi andiamo a vedere insieme un caso particolare di espressioni letterali, ovvero il monomio. Dopodiché dovremo essere in grado di distinguere un monomio intero da uno frazionario ed infine vedere come calcolare il grado di un monomio. E come nella lezione precedente vorrei andare a vedere delle formule, delle espressioni letterali che abbiamo già incontrato nel corso di geometria. Eccole qui. E come l'altra volta vi vorremmo consigliare di mettere un attimo in pausa questo video e vedere se riconoscete tutte e cinque queste formule. Cominciamo con la prima. Molti di voi avranno riconosciuto in questa la formula che ci permette di calcolare l'area di un rombo conoscendo nella diagonale maggiore di grande e la diagonale minore di piccolo. La seconda formula, questa qui in rosso, è quella che ci permette di trovare l'area di un trapezio conoscendo la lunghezza della base maggiore b grande della base minore di piccolo dell'altezza h. Questa formula qui in verde è quella che ci permette di trovare l'area di un parallelogrammo conoscendone base e altezza. La formula qui in basso è il perimetro di un rettangolo conoscendo le due dimensioni di base e altezza ed infine l'area del quadrato conoscendo la lunghezza del lato. Ecco, queste sono tutte espressioni letterali tuttavia solo alcune di queste sono dei monomi. In particolare vi posso dire che questo è un monomio qui non è un monomio questo è un monomio questo qui non è un monomio e quindi ricapitolando questo è un monomio questo è un monomio queste due non sono monomio e di nuovo vi chiedo mettete un attimo in pausa il video pensate quale potrebbe essere la regola generale che ci permette di distinguere le espressioni che sono monomi da quelle che non sono monomio ecco la risposta noi chiameremo monomio un'espressione letterale che contiene solo moltiplicazione e divisione quindi ovviamente non sarà un monomio un'espressione letterale che contiene addizione e sottrazione e di nuovo vediamo un esempio usando gli stessi numeri e lettere qui ho 3 per A per B vi ricordo di nuovo che nel prodotto tra numeri e lettere o tra lettere il segno di moltiplicazione si può omettere si può sottintendere ecco questo è un monomio perché contiene solo moltiplicazioni usando lo stesso numero e le stesse lettere tuttavia posso costruire una diversa espressione letterale che stavolta non è un monomio perché non è un monomio perché contiene un'addizione allora nei monomi noi possiamo distinguere due parti queste due parti le chiameremo il coefficiente e la parte letterale e come vedete già da questo esempio il coefficiente rappresenta il numero il numero che è a moltiplicare la parte che contiene le lettere non viene contato come parte del coefficiente qualsiasi esponente qualsiasi potenza delle nostre lettere ora una piccola parentesi voi sapete la moltiplicazione gode della proprietà commutativa quindi da un punto di vista della correttezza matematica non cambierebbe niente se io scrivessi questa espressione qui come A alla seconda per 4 per B o ancora peggio 4 per A per B per A o A per 4 per A per B dal punto di vista del risultato assolutamente niente tuttavia per semplicità nostra e poi lo vedremo più avanti il perché quando andremo a fare le operazioni con i monomi e con i polinomi e anche un po' per rendere più identificabili le varie espressioni letterali noi preferiamo seguire queste due regole generali prima di tutto il coefficiente si mette sempre prima della parte letterale secondo nella parte letterale si preferisce mettere il lettere in ordine alfabetico come ho fatto io qui ho messo la A prima della B ma in stessa maniera potrei mettere la P prima della Q la M prima della N la X prima della Y non è così via un'altra cosa importante può capitare che a volte il coefficiente allora in questo caso si preferisce non scriverlo quindi che so in questo nostro esempio se fosse stato una volta A alla seconda B non avrei scritto 1 per A alla seconda B avrei scritto semplicemente A alla seconda B avrei sottointeso come si dice il coefficiente avrei sottointeso l'1 ecco una cosa che noi possiamo un altro modo in cui possiamo distinguere tra un monome e l'altro è tra monomi interi e monomi frazionari è un errore molto comune è pensare che quando si parla di interi e frazionali ci si riferisca al coefficiente ma leggiamo prima la definizione vediamo se riusciamo ad applicare correttamente questa definizione a questi quattro esempi qui sotto allora un monomio è detto intero se le lettere compaiono solo al numeratore è detto invece frazionario se vi è almeno una lettera al denominatore ecco come potete capire qui intero e frazionario è riferito solo alla parte letterale non al coefficiente il coefficiente può essere una frazione e comunque avere un monomio intero ma la cosa importante è se abbiamo solo lettere al numeratore perché se ce l'abbiamo anche al denominatore allora è un monomio frazionario e di nuovo vi chiedo mettete un attimo in pausa vedete se riuscite già a risolvere o meglio a correttamente identificare queste quattro espressioni ecco questo primo monomio ha un coefficiente intero ha una parte letterale solo al numeratore quindi questo è sicuramente un monomio intero questo monomio qui può capitare qualcuno di voi lo identifica come frazionario perché abbiamo un mezzo a moltiplicare tuttavia questo è sempre un monomio intero perché? perché la parte letterale è solo al numeratore abbia la terza è solo al numeratore invece in questo esempio qui in basso vedete meno 5m fratto n il coefficiente è sì un intero ma la parte letterale contiene una lettera al numeratore e una al denominatore quindi questo è un caso di monomio frazionario e cosa dire dell'ultimo? non è un monomio perché contiene un'addizione ecco era qui solo per confondervi un attimo le idee l'ultimo argomento che andremo a vedere per oggi sarà la definizione di grado del monomio il grado del monomio ha a che vedere con le potenze letterali e in particolare noi distingueremo tra il grado di un monomio rispetto a una lettera e il grado assoluto di un monomio ecco il grado di un monomio rispetto a una lettera è l'esponente cui questa lettera compare quindi si riferisce a la singola lettera il grado assoluto di un monomio invece è la somma degli esponenti di tutte le lettere che formano il monomio andiamo a vedere il nostro esempio qui abbiamo questo monomio 4a alla seconda b quindi vedete noi tralasciamo completamente il coefficiente il coefficiente non ha nessun ruolo nel definire il grado di un monomio e andiamo a vedere le due lettere a e b compare alla seconda potenza a un esponente 2 quindi diremo che è di grado 2 o di secondo grado rispetto alla lettera allo stesso monomio possiamo dire che qui è di grado 1 rispetto alla lettera b perché vi ricordo che se non compare a nessun esponente è sottointeso un 1 non uno 0 è di grado 0 rispetto a qualsiasi altra lettera invece che sono rispetto alla lettera c o alla lettera d e così via e cosa dire invine riguardo al grado complessivo ecco andiamo a sommare i gradi rispetto alle singole lettere quindi possiamo dire che il grado assoluto o grado complessivo di questo monomio sarà 2 più 1 ovvero 3 e con questo è tutto arrivederci alla prossima lezione da mister Boscherini grazie a tutti